Il Basilico oggi entra nella sede dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Due eccellenze la conferma che il Basilico ormai ha un'immagine mondiale. Siamo fieri di essere qui, un luogo di eccellenza, e siamo altrettanto fieri di portare la nostra eccellenza del nostro territorio, il Basilico Genovese di OP, a denominazione di origine protetta. Queste tecnologie e agricoltura possono sembrare distanti, ma in realtà nella coltivazione del Basilico c'è tanta tecnologia, perché coltivando sotto serra abbiamo anche bisogno di nuove tecnologie per migliorare sempre di più le prestazioni nella nostra attività. Per quanto riguarda la difesa della nostra produzione, nella tecnologia le tecnologie sono fondamentali, la ricerca soprattutto è fondamentale. Noi abbiamo ad Albenga un centro di sperimentazione che ha molto contribuito nel risolvere alcuni problemi, sia agronomici sia di coltivazione. Le nuove tecnologie poi hanno permesso al Basilico di diventare un leader mondiale nella produzione del famoso pesto alla Genovese, perché la salsa di pesto alla Genovese è la seconda salsa più venduta al mondo.